Siamo qui con Marcello Eracli di Akfa Graphics sullo stand di Fespa 2015 per capire quali sono le novità principali che Akfa presenta in occasione di questa fiera. In questa fiera siamo arrivati ad un completamento della gamma che abbiamo iniziato a sviluppare qualche anno fa. Lo sviluppo di Akfa è iniziato dall'Enapurna, quindi da un mercato entry level, poi via via si è sviluppato fino ad arrivare a una gamma che oggi è veramente completa. Dall'Enapurna, quindi dalle macchine ibride che prendono in considerazione la possibilità di fare sia materiale rigido che flessibile, ci siamo poi sviluppati sia nell'ambito del flatbed, quindi su particolari applicazioni di materiale rigido anche di un certo dimensione spessore, e via via poi ci siamo sviluppati fino ad arrivare oggi alla Tauro che è una macchina che entra un po' nell'ottica del settore industriale nell'ambito del white format, quindi ad abbinare quelle che sono le caratteristiche qualitative che fino ad ora abbiamo cercato di migliorare affiancate a un aspetto invece produttivo, per cui per ora una macchina che lavora in modo manuale, ma che nell'arco dell'anno è previsto venga implementata con tutta una serie di semi-automatismi ed automatismi per arrivare ad avere sostanzialmente una macchina stampa digitale con le caratteristiche anche produttive e chiaramente di automazione che necessitano in un ambito. Perfetto Marcello, e quali sono i mercati principali ai quali ACFA si rivolge oggi con le proprie soluzioni? Diciamo che c'è il mercato di base classico e quello del sign and display in generale, che chiaramente prende in considerazione qualsiasi tipo di soluzione dal punto di vista del tipo di materiale che viene utilizzato. Poi via via lo sviluppo prevede di arrivare anche a mercati molto verticali, chiaramente con l'implementazione sia di strutture che possano essere atte a fare la stampa su materiali particolarmente critici, quali ad esempio? Quali ad esempio tutta la serigrafia in generale, quindi il vetro, il legno piuttosto che situazioni di quel tipo e la ricerca che stiamo affrontando è quella legata sia alla tecnologia per quanto riguarda la modalità di stampa che viene utilizzata, chiaramente nella ricerca delle teste adeguate per avere una certa qualità e anche allo sviluppo negli ultimi periodi anche di inchiostri dedicati a un tipo di supporto particolare, vedi il vetro piuttosto che altre situazioni particolarmente critiche, dove è necessario magari avere del primer per avere la possibilità di far aderire bene l'inchiostro, oppure ad esempio per soluzioni flessibili dove è necessario avere una certa flessibilità dell'inchiostro e quindi c'è una continua ricerca di sviluppo anche nell'ambito dell'inchiostro stesso, anche perché noi come ACFA comunque ricordiamo che siamo un'azienda chimica sostanzialmente, quindi il tutto chiaramente vuole arrivare ad avere una soluzione completa sia dal punto di vista della struttura hardware della macchina, dell'inchiostro e poi della gestione anche software di tutto quanto. Un servizio da 360 gradi. Application Academy, me la puoi spiegare un attimo? Cioè la dimostrazione di tutti gli ambiti di applicazione della tecnologia? Un po' dimostrare quelle che sono le applicazioni che si possono avere partendo dalla semplice stampa fino ad arrivare a settori appunto come dicevo prima particolarmente verticali, qui abbiamo praticamente mostrato come con l'applicazione della vernice del varnish si può valorizzare un certo prodotto, lo si vede dal disco una metà è stampata in modo diciamo normale, l'altra parte con l'aggiunta del varnish è stata possibile praticamente migliorare l'aspetto del prodotto stampato. Quindi anche nel grande formato la nobilitazione ha un ruolo molto importante, ma viene effettuata con tecnologie digitali o serigrafiche? Non solo digitali, infatti in questo caso questo disco in modo particolare è stato fatto con la nuova GT Mira con la possibilità di applicare la verniciatura spot, quindi diciamo che nella serigrafia è fatta in modo generale qui viene fatta proprio solo in modo spot. Sempre nell'ambito della Mira è stato anche realizzato ad esempio questo tipo di muro dove c'è la possibilità di stendere più strati di inchiostra e quindi creare una sorta di rilievo e addirittura andare a creare quello che vuole essere un'assimilazione del braille, ecco giusto per arrivare a un'estremizzazione della possibilità, però è possibile anche far questo proprio grazie al fatto che... Poi altre applicazioni, anche queste molto verticali, la possibilità di stampare l'enticolare è una caratteristica di stampa molto critica perché deve assolutamente essere precisa la stesura dell'inchiostro.